Eccoci qua, Antonio adesso sta pescando in quella pozza lì, ha la speranza di trovare qualche trota. Qua al posto è una figata assurda. Che colore. Signori, questo è un posto per veri pescatori, amanti della natura, bello, limpido. Pieno di rospi, marroni, pulito. Si farebbe anche il bagno lì in mezzo secondo me. Io purtroppo oggi sono inattivo ma saranno giorni migliori. Adesso mi piazzo con la sedia, qua, e guardo mio fratello. E mangio. In mezzo così. Ciao, a dopo.